Consorzio Nazionale Acciaio Lunga vita alla scatoletta Sì, la voglio! Dichiaro marito e moglie Che è successo? Le maestre ci sgrideranno sicuramente Che vita d'ora l'acciaio Lisetta Gino, sei in anticipo sulla lezione Certo, ho trovato il solito rompiscatole Che mi ha fatto fare la strada a calci Non gli hai detto che è meglio giocare a fare canestro Negli appositi cestelli della raccolta differenziata? Lisetta, non è da tutti saper fare canestro Hai ragione, caro Gino Ma questi ragazzi sono qui apposta per imparare Cari ragazzi, questo è un brutto esempio da non imitare Questa scatoletta ormai vuota e usata Non è nient'altro che una dei milioni di scatolette di acciaio Che vengono utilizzate ogni giorno nel nostro paese Se queste scatolette, una volta gettate, finissero nella discarica Oltre a degradare l'ambiente Costituirebbero un grande spreco sia in denaro Che in metallo con il quale vengono realizzate Ed ora è giunto il momento di fare due chiacchiere Sulla storia di questa nostra amica scatoletta E con l'aiuto delle immagini Vi racconterò come è nata A cosa è servita E che futuro l'attende Seguitemi Entriamo insieme nel magico mondo dell'acciaio Andiamo dai produttori che lavorano questo materiale Per trasformarlo in imballaggio Come nascono gli imballaggi di acciaio La nostra scatoletta nasce da grandi rotoli di acciaio Normalmente rivestiti da un sottile strato di stagno Utile a proteggere i prodotti che andrà a contenere Soprattutto alimentari Conservandoli a lungo nel tempo Senza rovinarne il buon sapore L'acciaio con lo stagno Prende il nome di banda stagnata Da questi rotoli di acciaio Si ottengono così Barattoli, scatolette, bombolette, tappi, capsule, coperchi E anche grandi contenitori Quali fusti, fustini, secchielli e latte E ora vi presento i veri protagonisti di questi grandi impianti Cominciamo con Lola la pizzaiola Capace di trasformare la lamiera in barattoli Come per magia Cari ragazzi Cosa sarebbe la pizza senza di me? Avete pensato a quanti barattoli avete aperto per assaggiare Del buon pomodoro, piselli O altre verdure con tutto il loro sapore naturale Immagino moltissimi Ed ecco Gino e il tonnino Beh, Lola Non ti allargare troppo In fondo anche il tonno per la pizza è importante Scommetto che nelle vostre insalate Non avete mai rinunciato a del buon tonno Così saporito E da me ben conservato Sono ancora io Lisetta la bomboletta La vostra insegnante Capace di rendere belli i vostri capelli con le lacche Profumare la vostra pelle con un semplice colpo di spray Ma anche per aggiungere della gustosa panna montata Sui dolci che mamma vi prepara spesso Ed ora ecco a voi Pippo il tappo Cari ragazzi Spesso mi avete visto sopra le bottiglie dell'acqua minerale O di altre bevande che acquistate di solito Non dimenticate che mi chiamano Tappo Corona Perché sono prezioso E quindi seppur piccolo Devo essere assolutamente riciclato Ora vi presento Fausto il fusto Ah sì È proprio un gran bel fusto Qui a rappresentare il mondo degli imballaggi industriali Io sono come il gigante Golia E posso contenere l'olio motore che entrerà nelle vostre automobili Petrolio o prodotti chimici di ogni tipo E non dimenticatevi dei miei fratelli I secchielli e le latte Capace di contenere le vernici per dipingere la vostra casa E anche altri prodotti utili I prodotti alimentari I detersivi e le vernici Una volta confezionati e sigillati dentro i nostri imballaggi Finiranno nei supermercati E quindi nelle vostre case Per poter essere usati nella vita quotidiana La raccolta differenziata Imballaggi Che una volta aperchi e usati dalle vostre mamme Saranno pronti per essere gettati negli appositi contenitori Per la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio Insieme alla raccolta del vetro Della plastica E della carta L'importante È non gettare questi preziosi imballaggi Nel sacco nero dei rifiuti non recuperabili Per non far terminare il loro viaggio nelle grandi discariche Attraverso un'attenta raccolta differenziata Che parte nelle nostre case E poi passa agli operatori ecologici del consorzio I quali si preoccuperanno di riunire Tutte queste scatolette, bombolette e barattoli usati In grandi isole di raccolta Dove si formeranno montagne di materiale Pronto per entrare in acciaieria È proprio lunga la vita della nostra scatoletta Vero ragazzi? E chiunque Industriali, casalinghe, studenti Tu Mirko Tu Sonia Tu Simona Tutti voi potete dare una mano Fate canestro Semplicemente mettendo gli imballaggi usati in acciaio Negli appositi contenitori di raccolta Predisposti dal vostro comune Chi di voi riassume quanto ho appena raccontato? Io maestra Le scatolette in acciaio sono sicure grazie allo strato di stagno Che protegge perfettamente gli alimenti contenuti Per molto, moltissimo tempo La raccolta differenziata significa raccogliere i vari imballaggi Negli appositi contenitori Questo vale anche per l'acciaio Che è facile da riciclare E ci pensa poi il Consorzio Nazionale Acciaio Al suo recupero E' una bella invenzione questa scatoletta Ci hanno anche detto però Che l'acciaio nelle isole ecologiche Può essere catturato dal resto degli altri materiali Con grandi calamite Che attirano questo metallo senza perdere un pezzo Bene ragazzi Vedo che siete stati molto attenti Ma ora andiamo avanti sul percorso della raccolta differenziata Processo di rifusione e riciclo Gino! Schiacciati e impacchettati in grossi cubi presso gli operatori del Consorzio Gli imballaggi usati vengono trasportati nell'affascinante mondo dell'acciaieria Ovvero nei grandi forni di fusione Che possiamo paragonare ad un vulcano in attività con le sue colate incandescenti Dove dopo un lungo percorso verranno trasformati in barre di nuovo acciaio L'acciaio ritorna acciaio! Ok ragazzi Questo è il percorso della lunga vita della nostra scatoletta Che è diventata parte di una nave o di una bicicletta Vi ricordate? Qualcuno all'inizio voleva gettarla via Vi è piaciuta questa storia? Chi di voi vuol farmi qualche domanda riguardo tutto quello che vi ho appena raccontato sul riciclo dell'acciaio? Vediamo chi alza la mano e parla per primo Veramente si possono fare tutte queste cose signora maestra? Allora quante scatolette occorrono per costruire la mia bicicletta? Bravissimo Andrea È una bella domanda Ora ti mostrerò subito un esempio E prendetene nota tutti Con l'acciaio ricavato da circa mille mille cinquecento scatolette Si può realizzare il telaio di una bicicletta E per farvi capire meglio Pensate che con questa grande montagna di scatolette usate Si potrebbe realizzare un ponte ferroviario O una nuova torre Eiffel Si potrà costruire lo scafo di una nave E così via Potrei fare mille esempi Binari ferroviari Una panchina Una cancellata O il tondino di acciaio per armare il cemento Avete visto cari ragazzi Quante cose si possono ottenere Facendo canestro e riciclando così gli imballaggi in acciaio? Se volete saperne di più sulla raccolta differenziata degli imballaggi di acciaio Ricordatevi che il Consorzio Nazionale Acciaio è a vostra disposizione E vi invitiamo ragazzi a navigare sul sito internet www.consorzio-acciaio.org Oppure per conoscere le nuove iniziative molto divertenti per voi giovani studenti Consultate il sito www.acciaio-amico.org Inoltre vi presenteremo il libro illustrato Lunga vita alla scatoletta Consorzio Nazionale Acciaio Consorzio Nazionale Acciaio